Due giorni dopo la trasmissione di Report di domenica sera torniamo a parlare dell'inchiesta giornalistica di Re3 dedicata a Catania. Mentre sulle web il dibattito si infiamma ciò che disarma di più non sono soli i fatti trattati noti per lo più a chi fa informazione e a chi si tiene informato ma la reazione apatica di una città che non ha voglia di uscire allo scoperto nemmeno dopo un tale pugno nello stomaco. Sentiamo il nostro direttore Elisa Catanzaro The Days After. Parafrasando il titolo della nota pellicola americana a due giorni di distanza della bomba sganciata da Report su Catania l'atmosfera in città è surreale come il dopo esplosione nucleare del film. A parte i prevedibili commenti di rito da parte di politici di maggioranza e opposizione in cui tutti danno la colpa a tutti meno che a se stessi poco o nulla è stato detto e fatto per tentare di recuperare se non la credibilità almeno la dignità perduta. E' troppo facile dire che Report non ha mostrato l'altra faccia della medaglia che non ha dato risalto a quanto di bello e buono nella nostra città c'è e continuerà ad esserci. Troppo facile ed anche inutile. Dopo le magagne mostrate da Report a tutta Italia sarebbe stato lecito aspettarsi una presa di posizione forte da parte delle istituzioni, un'assunzione di responsabilità da parte della classe politica, una proposta di avvio di tavoli trasversali e interistituzionali sui nodi risolti da parte dell'opposizione, invece nulla. Sarebbe un segno di speranza vedere una manifestazione di piazza, un sit-in, un comizio e invece niente. Sul web è diverso, il dibattito si infiamma e i commenti arrivano a centinaia. Sarebbe auspicabile che questo avvenisse anche sui mezzi di informazione tradizionali e nella società civile reale e non soltanto in quella virtuale. Altrimenti il messaggio che rischia di passare è quello che la realtà sia troppo brutta da guardare in faccia, che basti mettere la polvere sotto il tappeto per far tornare tutto come prima, che il sistema sia così radicato da far ritenere ingenuo anche chi si stupisce e si indigna. Perché in fondo si sa tutto il mondo è paese, perché alla fine tutto sommato qui si sta bene. Basta pensare però agli occhi di quella giovane donna costretta a vagare da una casa all'altra per capire che forse non è così. Qui non si sta bene, qui non si sta bene, qui si sopravvive tentando di ignorare le condizioni in cui vivono alcuni abitanti di Librino, di ignorare il timore di far crescere i propri figli in una scuola che settiva bene e malsana, settiva male e crolla, di ignorare che la politica è ormai scevra di qualsiasi significato alto e che è vista come un mezzo per ottenere potere, clientele e soldi in una spirale perversa che sembra senza fine. Adesso però che tutto il paese ci osserva non possiamo più fare finta di niente. Ora più che mai è indispensabile riconquistare la dignità perduta e questo si può fare soltanto non nascondendo la testa sotto la sabbia. Cominciamo a essere critici con noi stessi, prendiamoci ognuno le proprie responsabilità, giornalisti, cittadini, politici, magistrati, società civile. La puntata di Report ci avrà forse elevato qualche turista settentrionale ma ci dà una grossa possibilità, quella di riflettere, trarre spunto dagli argomenti trattati per cercare e trovare nuove soluzioni condivise. Guardiamo in faccia la realtà in cui viviamo, solo così potremo sperare di cambiarla.